Il Gravina cade a Palma Campania, 4-2 il finale a favore dei padroni casa che agganciano così in classifica a 16 punti la formazione murgiana per il Gravina la seconda sconfitta consecutiva nelle due trasferte a cavallo delle festività. Si gioca sotto la pioggia abbattente, la Palmese parte meglio con due opportunità, la prima sulla testa di Marco Puntoriere, la seconda con il destro di Silvestro all'Atorino Molto. I Campanina sbloccano al 26esimo, la firma è di Fusco che calcia bene dal limite e 1-0. La gioia dei padroni di casa viene smorzata al 34esimo dal pareggio del Gravina, rete di Coppola con la grossa complicità del portiere Moccia. 1-1 nel finale di prima frazione Francesco Puntoriere ci prova calciando dalla distanza, Schultz respinge all'intervallo e parità. La ripresa si apre con il nuovo vantaggio della Palmese, minuto 48, colpo di testa vincente di Marco Puntoriere libero di staccare in area e 2-1 ma poco dopo i Campani potrebbero già calare il Tris ma Silvestro apre troppo il piattone e manda sul fondo. Il Gravina reagisce e lo fa bene al 53esimo, Santoro fa suo un rimpallo poi calcia bene superando Moccia e trovando il nuovo pareggio ma il 2-2 dura pochi minuti perché al 75esimo la Palmese mette ancora la freccia. Conclusione di Galdian che impatta la traversa sulla ribattuta, Dorsi è implacabile, cambia ancora il tabellino e 3-2 il Gravina molla definitivamente e all'ottantunesimo Potenza chiude la partita con una stoccata da fuori aria. 4-2 il tecnico Murgiano Infantino protesta vivacemente e l'arbitro lo espelle, finisce così con la vittoria della Palmese che crede ancora nella missione salvezza, vittoria pesante al cospetto di un Gravina chiamato al riscatto in casa. Nel prossimo turno contro Rotonda.